ragazzi bentornati sul mio canale in questa recensione parleremo di un prodotto davvero sensazionale dal prezzo non certo contenuto ma vi posso garantire che vale ogni centesimo della spesa sostenuta stiamo parlando di questa tastiera commercializzata da vixing tastiera da gioco oppure da office dalle elevate qualità iniziamo col dire che è una tastiera qwerty quindi compatibile con gli standard italiani tastiera 104 tasti dotata quindi di tastierino numerico sulla parte destra il corpo della tastiera è realizzato interamente in alluminio ed il peso non è di certo contenuto questo permette di avere massima stabilità e anche un ottimo grip su ogni superficie scordatevi quindi scivolamenti strani sulla superficie durante la digitazione il perimetro della tastiera è conformato in questo modo che conferisce un design davvero accattivante la parte destra abbiamo questa specie di presa che ci aiuterà nello spostamento sulla scrivania abbiamo poi queste due viti a vista che ne migliorano ulteriormente l'aspetto cavo abbastanza lungo da raggiungere il retro del pc con connettore ampio è facile da maneggiare quindi questa tastiera presenta alcune caratteristiche molto interessanti che la distinguono dagli altri prodotti sul mercato prima di tutto è dotato tecnologia anti ghosting che cos'è questo ghosting molte volte capita che premendo diversi tasti contemporaneamente la tastiera non sia in grado di percepire ogni pressione e quindi determinate funzioni non vengono effettuate con questa tastiera scordatevi questi problemi infatti è particolarmente sensibile e rileverà ogni tipo di tocco poi cos'altro dire tasti non incassati all'interno della struttura ma tasti sopra elevati pertanto sarà facilissimo procedere con la pulizia e l'eliminazione di eventuali residui che si vanno a depositare tra i tasti il tutto è semplificato dalla presenza di questo dispositivo incluso in confezione che ci permetterà di estrarre i tasti con estrema semplicità al di sotto di ogni tasto troviamo questo questa struttura trasparente in cui è incapsulato l'elemento attivo del tasto è inoltre accompagnato da un led che vedremo ampiamente in seguito il click prodotto da questi tasti è davvero molto molto piacevole e garantisce un'esperienza di scrittura davvero sensazionale al di sopra di ogni aspettativa davvero non ho riscontrato una qualità del genere nemmeno in prodotti di marche ben più blasonate come ad esempio logitech le dita scorrono perfettamente anche grazie alla giusto dimensionamento dei tasti che ospitano perfettamente il polpastrello il click ricorda un po quello delle macchine da scrivere e davvero ho apprezzato molto questo questa scelta allora voglio collegarla al computer per farvela vedere in azione spengo la luce capirete adesso il perché è o non è sensazionale io sono rimasto davvero senza parole la prima volta che ho usato questa tastiera potremo inoltre decidere di illuminare soltanto determinati tasti che queste modalità di illuminazione sono preconfigurate oppure potremo configurare delle modalità di illuminazione a nostra scelta vi faccio una breve carrellata il tutto può essere gestito mediante la pressione del tasti da 1 a 0 chi è un giocatore sa benissimo che questi sono i tasti che generalmente vengono utilizzate in varie tipologie di gioco basti pensare a sparatotto giochi di auto giochi sportivi come mba o pass oppure giochi di strategia ve li mostro velocemente potremo inoltre decidere come già detto di personalizzare l'illuminazione soltanto di determinati tasti se abbiamo delle esigenze particolari potremo inoltre grazie alla doppice funzione dei tasti superiori svolgere una serie di operazioni comodamente da tastiera come ad esempio aprire l'esplorare risorse effettuare una ricerca aprire la calcolatrice avviare il player musicale muoverci all'interno della nostra libreria musicale mettere in play o pausa un brano regolare il volume mettere il muto o infine potremo decidere di disattivare la tastiera possiamo inoltre scegliere tra tantissime modalità di illuminazione vi faccio una breve carrellata per poter passare da una modalità all'alta basta aprire il tast tast function e tast int bellissime vero questa pulsante con l'intensità che cresce da sinistra verso destra questa è anche molto simpatica premendo un tasto si illumina la tastiera con questo particolare effetto poi abbiamo anche la luce fissa potremo decidere inoltre di variare l'intensità luminosa in base alle nostre esigenze oppure potremo variare anche la velocità di risposta dell'intensità alla digitazione per concludere quindi voglio ribadire che si tratta di una tastiera di elevata qualità e questo giustifica il prezzo superiore rispetto alla media nemmeno con prodotti di marche famose come Logitech mi sono trovato davvero così bene sperando che questa recensione possa esservi d'aiuto vi ringrazio e vi saluto alla prossima